Questo progetto consiste nel far avvicinare i ragazzi delle medie, delle classi inferiori rispetto alle superiori in modo da avere più persone che arrivano a nostra scuola e a questo indirizzo. Inoltre questo progetto consisteva nel creare un simulatorio di guida, in questo caso per le classi quarte oppure una pista per delle macchinine delle classi terze che poi verranno portate nelle medie per appunto far avvicinare le persone a questo indirizzo. La nostra presentazione delle nostre classi quarte era sul simulatorio di guida il quale l'anno prossimo progetteremo e costruiremo insieme all'altra quarta di meccanica e arriveremo probabilmente a fare gare online con questo. È un progetto anche un po' più di innovazione a livello pratico anche per appunto far vedere a livello pratico che cose vengono a fare poi in questa scuola in maniera più chiara e più simpatica e anche divertente.